Stamane il personale della Digos di Bari, Lecce, Foggia e Portenone su disposizione della procura di Foggia ha eseguito 39 perquisizioni, 25 delle quali nei confronti di esponenti della tifoseria organizzata del Bari e 14 nei confronti di Ultras del Lecce. L'operazione di polizia è stata avviata dopo la violenta rissa avvenuta il 23 febbraio scorso tra le tifoserie di Bari e Lecce sulla careggiata sud dell'autostrada A16 nei pressi di Cerignola. I tifosi baresi si stavano recando a Castellammare di Stabia per la sfida contro la Cavese mentre i leccesi erano diretti allo stadio olimpico per il match contro la Roma. Nel corso della rissa un mezzo di tifosi leccesi fu dato alle fiamme, altri gravemente danneggiati e fu interrotta la circolazione sull'autostrada per diverse ore. I controlli della Digos hanno consentito di identificare all'uscita dei due caselli autostradali baresi ed in altre zone del capologo decine di tifosi di entrambe le fazioni e rinvenire strumenti e oggetti atti ad offendere probabilmente utilizzati nella rissa. Il materiale è stato posto sotto sequestro e quattro soggetti segnalati alla Procura della Repubblica.